Ciao, io mi chiamo Sidemy e benvenuto sul mio canale. Oggi ti mostro un video della rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana. Tra le varie cose che ti voglio mostrare nel mio blog ci sono alcune parole che normalmente non troveresti nei manuali di lingua russa e la parola della quale ti parlo oggi è yibinya. Quando studiavo russo all'università abitavo in una piccola frazione della mia città che era molto distante dall'università, cioè anche se in macchina ci voleva tipo un quarto d'ora con i trasporti potevo metterci anche un'ora o più. Ricordo che durante una lezione di russo imparamo delle espressioni per dire che abitavamo molto lontano e l'espressione che imparai allora era uchort naragach. Soltanto poco tempo fa, stando già qui in Russia da molti anni, ho scoperto che uchort naragach è un'espressione che appartiene a un registro molto più alto di quello che in realtà io avrei voluto dire quando volevo dire che abitavo in culo al mondo e ho scoperto che ci sono tanti altri modi di dire che purtroppo non mi erano stati insegnati prima perché nessuno voleva insegnarmi le parolacce. Ci sono tanti altri modi di dire per dire che abiti lontano. Per esempio puoi dire che abiti oppure se vuoi proprio abbassare il registro e usare una parola che deriva da job che significa fottere chiavare tutta una serie di parole sulle quali metteremo bip. Allora puoi dire yibigna. Yibigna appartiene a un registro molto molto basso ed è forse perfino troppo fine tradurlo come in culo al mondo. Troviamo la definizione di questa parola sul di diccionario online slang.ru. Che dice? Glucone e, come правile, udalene da l'obbligo strumento di l'obbligo strumento. Esempio. quando arrivi al tralegio... Prasnullis yibigna... ti sei addormentato nel tralegio, nella filovia, nel filo e poi ti svegli in culo al mondo. Dal punto di vista grammaticale yibigna è un plurale atantum, significa che si usa solo ed esclusivamente al plurale e lo decliniamo così. Proviamo a fare degli esempi con i casi che abbiamo appena visto. Per esempio, con il caso accusativo possiamo dire oppure con il caso prepositivo dalla parola yibinia nascono un mare di altre parole, specialmente adesso che Mosca, la capitale, sta diventando una città sempre più grande e si sta diffondendo come un cancro e ci sono nuovi quartieri che cominciano con novo, per esempio. Si stanno creando nuove parole, nuovi derivati di yibinia che si comportano proprio come i nomi dei nuovi quartieri di Mosco, delle nuove città che stanno nascendo nelle periferie. Per esempio, da Vicky Slavar, a una città di rosso, noi andiamo, noi andiamo... Novo eibinova, è bencimz, è bencimz, è bencimz, è bencimz, è finisci? Eba, che? C'è bichovla, è bocchina, è pibicina, è bichina, è rbololovla, è buca. E ne ne buca! eccetera eccetera. Sebbene Yébignà sia una parola del registro volgare, una parolaccia fondamentalmente, negli ultimi tempi c'è stata una sorta di romanticizzazione della Yébignà e questo grazie alla nascita di alcuni gruppi su Facebook e pagine su Instagram che celebrano questi luoghi remoti, desolati e magari un po' bruttini mostrando la loro estetica, cioè il fatto che possano essere tremendamente brutti e nella loro bruttezza tremendamente belli. Esiste anche una canzone che ho trovato recentemente che si intitola proprio Yébignà, è un po' trash ma vi faccio vedere qualche quadro, qualche frame. Insomma, vivendo a Ciorani io non vivevo u Ciorta Naragà come ero convinta, ma sarebbe più appropriato dire che vivevo in Yébignà e che quando poi me ne sono andata... E ok, non vivevo u Ciorta Naragà come ero convinta, ma più propriamente in Yébignà e trasferendomi poi a Mosca ho finito per vivere proprio nella Yébignà della Yébignà. E tu in che Yébignà vivi? Scrivimelo nei commenti oppure inviami delle foto e mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al canale e accendere le notifiche. Ciao! Ciao!